numero 1 dunque abbiamo una molla al massimo della sua estensione una molla con attaccato un piccolo oggettino qua quindi molla estesa al massimo con una forza di 80 newton cosa vuol dire che la molla in quel momento sta esercitando una forza di 80 newton se devo rappresentare questa forza attenzione la devo rappresentare così perché la molla visto che è tirata al massimo tende a riportare l'oggetto indietro quindi la direzione della forza è quella la massa dell'oggetto attaccato m è di 50 grammi la costante elastica della molla sono 100 newton su metri ok ci chiede un po di cose questo problema calcola la accelerazione massima dell'oggetto la velocità massima dell'oggetto e la posizione massima dell'oggetto poi c'è un'altra domanda in quanto tempo la molla compie un'oscillazione sottinteso oscillazione completa a max v max s max chi sono questi signori io nella parte di teoria prima vi ho spiegato che la posizione la velocità e l'accelerazione sono dei vettori adesso approfondiamo un po questo discorso per capire cosa vuol dire massimi tutti e tre cambiano costantemente nel tempo questo schema che ho fatto qua sotto con la o al centro immaginatevelo come uno schema che rappresenta il moto della massa azzurra qua sopra quindi quando siete nell'estremo destro avete la massima estensione verso destra la molla poi vi tira indietro quindi prende il vostro oggettino anzi facciamo che ve lo faccio vedere la molla vi riporta indietro pam 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 l'oggetto passa per il centro dell'oscillazione arriva qua la molla a questo punto è compressa è schiacciata e quindi tende a rispingervi dall'altra parte e l'oggetto fa avanti e indietro in questo modo la molla oscilla ora partiamo da quello più facile s max s max è il punto più lontano dell'oscillazione rispetto al centro quindi s max voi ce l'avete quando siete il più lontani possibili dal centro dell'oscillazione la v max e la a max anche qua salto un attimo la v perché la a è quella più facile in realtà delle due ovvero vi dicevamo prima l'accelerazione del moto armonico è la tendenza a tornare verso il centro più vi allontanate dal centro maggiore è l'accelerazione ma dove è massima l'accelerazione allora è massima quando sono il più lontano possibile dal centro quindi esattamente nello stesso punto in cui c'è s max c'è anche a max e per quanto riguarda v v max è massima anche lei quando sono al bordo no attenzione perché quando sono al bordo l'oggetto si ferma un secondo e poi torna indietro quindi la velocità non è al massimo la velocità è massima quando passate dal centro quindi quando il mio affarino è tirato indietro e ripassa per il centro in questo punto c'è v max quindi occhio v vale 0 sopra a è al massimo s al massimo sotto quando sono al centro s vale 0 perché sono effettivamente al centro a vale 0 perché a vale 0 perché a è la tendenza di tornare al centro ma se sono già al centro non c'è nessuna tendenza a vale 0 mentre la velocità è massima quindi attenzione la a max s max e v max si presentano in situazioni diverse all'atto pratico come le calcolo le calcolo con le solite formule che adesso vi riscrivo ovvero s uguale r coseno di omega t v uguale a meno r omega seno di omega t meno r omega quadro coseno di omega t quindi ragazzi il trucco è semplice le quantità massime quindi s max v max e a max le calcolate togliendo il seno e il coseno dalle formule s max è uguale a r v max è togliete anche meno r per omega a max è r omega quadro facile e indolore quindi quanto vale s max è r cos'è r è la massima è la massimo allungamento della molla omega è la pulsazione che devo calcolare e omega quadro devo calcolare perché ho tolto seno e coseno perché le ho messi uguali a 1 se qualcuno di voi ha fatto un po di goniometria sa che se ne coseno al massimo valgono 1 visto che mi servono s max v max a max ho messo seno e coseno uguale a 1 bom quindi in realtà non è che devo fare chissà cosa mi devo calcolare r e omega e ho ottenuto le tre quantità e come calcolo r e omega partiamo dalla più facile che è omega omega essendo una molla ha una formula specifica nelle molle col moto armonico omega è la radice di k fratto m non devo fare ragionamenti qua devo applicare la formula quindi a radice di 100 che è la k fratto la massa che era 50 grammi non tenete la in grammi mi raccomando altrimenti vi vengo a prendere a casa sono 0,05 chili e qua dovete farvi il calcolo quindi qua vi scrivo calcolo vabbè facciamo che questo mi sento particolarmente gentile ve lo faccio mi viene circa 44,7 questa è la vostra omega e la r ti sei dimenticato di darci un dato no attenzione è una molla e la molla voi la conoscete già cioè l'avete già vista da qualche parte l'avete fatta tra le prime robe in fisica si fanno le forze e si fa anche la molla c'è un modo per calcolarsi l'allungamento della molla utilizzo le formule delle molle cioè io so che la forza elastica è k per normalmente voi lo scritte come k per x x è l'allungamento della molla in questo caso x è r perché r è il massimo allungamento della molla e quindi è sempre una x per quello mi ha dato la forza lui perché è saltato fuori con quell'ottanta newton mi serviva qua quindi io posso dire che da questa formula r è la forza elastica fratto la k e quindi me lo devo calcolare quindi r è 80 fratto la k 100 quindi r è 0,8 o r o omega mi posso calcolare le varie quantità s max 0,8 metri facile v max 0,8 metri per la omega 44,7 vi faccio fare il calcolo a voi qua vi scrivo come sempre calcoli tanto le calcolatrici le sapete usare la a max è 0,8 metri sempre per 44,7 al quadrato anche qua vi dovete fare i calcoli calcoli quindi usando le formule del moto armonico in un attimo mi sono calcolato a max di max ed s max ricordatevi allora non serviva fare tutta questa parte qua cioè il fatto di capire che a max s max di max fossero in punti diversi era per farvi vedere a che cosa corrispondono queste quantità poi se uno deve calcolarsene basta che si ricorda le formule lì a destra ed è a posto ora l'altra domanda è in quanto tempo la molla si fa un'oscillazione completa che cosa ci sta chiedendo quindi il punto b il punto b ci sta chiedendo di calcolarci il periodo quindi di fatto ci sta chiedendo t maiuscolo da dove lo tiro fuori t maiuscolo o me lo da lui oppure t maiuscolo compare in una formula che è questa e ma matteo mai appena usato un'altra formula per la omega vabbè non è legale nel senso che la omega nelle molle col moto armonico c'ha più formule c'ha quella che c'ha la radice di k su m e a quella 2 pi greco fratto t io come sfrutto questa formula sapendo già quanto vale omega l'ho già calcolata la utilizzo per ricavare il periodo quindi 44,7 uguale a 2 pi greco fratto t quindi il periodo è 2 pi greco se invertite questa formula fratto 44,7 voilà anche qua calcoli a vostro carico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti